La Fondazione Arte della Seta Lisio è una manifattura di tessuti velluti e broccati fatti a mano. Ha una storia lunga perché è nata nel 1906 e come tale ha una tradizione quindi lunghissima. La scuola è nata invece a metà degli anni Ottanta, quando l'erede di Giuseppe Lisio e Fidal Malisio ha inteso tramandare quest'arte anche attraverso le attività didattiche. La Fondazione Arte della Seta Lisio, tessendo velluti e broccati fatti a mano, tramanda una tradizione antichissima che risale addirittura al Rinascimento. Si tramanda un'arte che non è fuori dal tempo ma è calata nella realtà nostra in quanto ricordiamo che tutte quelle che sono le attività e le produzioni meccaniche nascono dalle produzioni manuali. Un mestiere tradizionale come questo, come il nostro, si mantiene innanzitutto cercando di non avere compromessi con nessuno e con niente, in quanto l'identità di una realtà artigianale come questa deve rimanere tale. e soprattutto quello che è l'obiettivo di avere prodotti e una produzione di eccellenza.